ragazzi benvenuti in questo video pazzesco oggi sono in questa location un'isola segretissima della grecia e vi faccio il tour della suite milionaria si entra da qui e però volevo partire da questo terrazzo pazzesco la situazione giù è così lì c'è il mare questo terrazzo pazzesco tutta la suite si sviluppa su questa terrazza su questo diciamo chiamiamolo pure attico qui c'è il gioiellino ragazzi sempre in funzione pazzesco adesso vi faccio anche vedere il dentro dentro molto easy allora quello che mi piace intanto vi faccio vedere io come sono come come sono aspetta come sono bello ok lì praticamente qui il bagno è scomposto ragazzi chiedo scusa per il disordine ma sapete con una bambina qui è la zona letto e di solito si dorme dall'altra parte così vediamo tutta la vetrata questo ripeto sono io mi piace lavarmi i denti e vedere alle spalle il mare pazzesco poi questo è l'ingresso il disimpegno qui c'è il bagno non so se vi può interessare ok molto easy che è diviso dalla doccia che qui molto tranquilla molto easy non so so che lì c'è la televisione ma non ci serve so che c'è gente molto morbosa qui queste cose interessano qui c'è il nostro steso qui c'è la mitica a me piace tantissimo dopo il mare dopo la piscina buttarmi qui e godermi i tramonti pazzesco ragazzi posto veramente pazzesco questo è il tour che veramente secondo me merita c'è una luce pazzesca ho deciso di fare questo video vedete si sviluppa tutto qui siamo credo gli ultimi la camera più alta niente dalla grecia isola segretissima vi faccio vedere questa suite vado allo specchio così vi saluto i video comunque nel canale non vi preoccupate mi metto qui che è più bello non vi preoccupate perché c'è la programmazione ci sono un video da domani partono video tutti i giorni noi poi io tornerò in ufficio ma questa è un'altra storia da qui da questa fantastica location è tutto iscriviti al canale e commenta fammi sapere cosa ne pensi io adesso vado a cena che mi stanno aspettando devo chiudere tutto e vi aspetto salutiamoci così iscrivetevi al canale ciao